La Calabria è una fucina di prodotti, di espressioni, di culture, di tradizioni. Noi cerchiamo di coniugare il pescato nelle varie forme che sono possibili. A parte questo anche il lavorato, quindi il baccalà, lo stoccafisso, che rappresentano un pesce non del Mediterraneo ma del Nord Europa, un pescato nord europeo che trova la sua sintesi migliore nelle coste e soprattutto nei paesi calabresi di Mammola, di Città Nova, che hanno una tradizione assoluta di grande spessore. È un momento popolare ma di aggregazione anche culturale, perché è un quartiere dove l'aspetto culturale, ho visto che la gente ci tiene molto. Ci sono romani, ci sono turisti in queste belle giornate che stanno popolando e riempiendo i nostri stand. Noi stiamo offrendo un prodotto di qualità, stiamo offrendo un prodotto legato al territorio, alla cultura, legato agli otto consorzi di tutela e valorizzazione presenti in Calabria. Dalla liquirizia all'olio, alle patate, al bergamotto, ai fichi. Sono i consorsi che stanno tutelando in questo momento la cipolla rossa e portano avanti il buon nome della Calabria. Lo stoccafisso, coniugato con questi sapori, sta destando un notevole interesse nelle persone, sta destando pure, sta creando nuove aperture, nuove occasioni per i nostri produttori, per le nostre aziende di trasformazione dello stoccafisso e del baccalà.